Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy Elite Return Eravamo arrivati qui, mostrami Simona Lo voglio mostrare! Salve amica Oh, gra-gra-gra-grazie amico Oh, guarda Oh, ancora tu, ma mi sei mancata, guarda L'ho proprio detto io, ancora tu Eh, che bello, eh Sì, sì, sì Certamente che lo credo E che vuole... ha paura di me Eh, ovviamente Cioè! Adesso tipo, mi daranno il copyright per la musica di sottofondo Strano, perché mi hanno detto tutti gli episodi che ho fatto Tutti, tutti gli episodi che ho fatto di Final Fantasy Così sono stati corrispondenze con contenuti in terza parte Oh, 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 oh Oh, beh, la sua ex Certo, come no? Ma Yeol era vigente, vedeva il futuro E Noelle lo sapeva Come poteva non credere che ci sarebbero... si sarebbero visti di nuovo Da allora continuo ad aspettare Povero stupido Secoli e secoli di attesa In solitudine Come ha fatto a non pensarci Per tutto questo tempo L'unica cosa che ho... che lo ha spinto Ad Andassissi E ovviamente... oh, no, non li ricordo Sì, mi scusi Io vorrei giocare Non vorrei far solo dialogo Perché, sa, lei C'è un pubblico E non... c'è Desiderebbe capire sia la storia Noelle ti vuole more Grazie Ci voleva solamente questo Come sprecare due minuti e cinquanta di episodio Fantastico Ho visto Noelle lo segui È fermo Cosa lo segui? Io non so più dove è andato, mo L'ho perso Vabbè, io vado a destino L'ho trovato Grandissimo Fortuna No, 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 no Schifosi Fate schifo Oh, lo sto un po' massacrando Mi dicono Morto Boom, baby Ti vengo a pigliare E ti faccio tante sculacciate Cacchiarola, cacchiarola, cacchiarola Cacchiarola Cacchiarola, cacchiarola Oddio 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 Non ci credo mai Troppo forte Cos'è? Sono arrivato Sono arrivato Sono arrivato A un punto incredibilmente ignoto Noelle Oh Che bello Ecco il futuro profetizzato Mi scusi Mi scusi ma Mi è ammazzato Noo E non uccidermelo No Oh, scendi schifoso Tu non mi ammazzato Perché innanzitutto Ti sculaccio E ti apre a metà Grazie per avermelo detto Adesso ti potrei ammazzare E grandi tre maschi Boia Che scena Che scena con E te scenderemo E te scenderemo E te scenderemo E te scenderemo Ehm No, oh, oh No, no Senti, stai calmino un poco No, 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 no No, 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 no G, amico Tutto qui Ah, combatto loro così Va benissimo In che non ho combatto io O a posto Ecco che gli rubavi l'anima Pur al bambino E te li hai rubata Eh Monella Che rubi gli anime Non vale Bellissimo questo video Tipo sarà Tutte scene Tutte scene Fantastico Esatto Sei troppo debole Hai ancora un cuore Hai già Ucciso un amico Per salvare il mondo Non puoi rifarlo Dai Non mi far la bua Esatto Esatto Eh no eh Ah ok Meno male Ok bene Sono dieci minuti Che regi Sei scemo Sei scemo Come finire un episodio Con la guerra Dei mondi Non si fa niente Aia Mi fa malissimo E' in crisi E' in crisi E' in crisi E' arrivato in Italia E' arrivato in Italia E' arrivato in Italia E' arrivato in Italia Questa cosa mi piace alquanto L'ha schivato Morto Porco cavolo Io ci riprovo Eh ma Non aspettatevi nulla Ehi Mezzo scemo E' arrivato in Italia 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 Sì E' arrivato in Italia 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 sei ridicolo torna a casa grande ora sei più simpatico oh dear 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 esatto c'è grande sì sono stato io mi scusi io l'ho io l'ho come stai gli hai appena detto che morirà presto con questo mi scusi anche lei non è che è tanto simpatica no tranquillo sono cose che capitano esatto potete aiutare tutti insieme fate una cioè veramente stanco non riesco neanche più a commentare come cominciare un video alle 3 e finirla alle 4 tutorial io comunque lascio queste scenette solamente per farle vedere ai diretti interessati perché è un bel gioco eh è un bel gioco senza scene non viene vissuto ok bro fist grazie 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 poteva anche finire così il gioco tanto la era difficile battere cosa missione principale compiuta ho vinto ricompensa pie max più uno no quindi adesso ne ho 6 in teoria si pv max più 240 ehhh tanta roba tanta roba tanta roba categrale luxerion per devo accedere e prendiamo queste palline caccia tenebre medaglie medaglie d'argento dobbiamo parlare con are mia per tornare indietro ma questo lo scopriremo nel prossimo episodio e quindi grazie a tutti per avermi visto io sono axidmai77 spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti uuuhh che roba madò